Io mi occuperò di presentarvi quelli che sono gli elementi della prevenzione primaria in sala autottica e tutti quelli che sono i requisiti indispensabili. Inizierei però facendo quella che è una revisione di quelli che sono i rischi legati all'infezione del virus SARS-CoV-2 ricordando che è un virus che è stato classificato come agente biologico di gruppo 3 e quindi la cui pericolosità è classificata come alta. Quali sono le modalità di trasmissione del virus e quali sono le modalità di trasmissione che ad oggi sono accertate? Diciamo che anche se è ormai passato ben più di un anno molte cose rimangono in dubbio quindi non abbiamo sicurezza assoluta su tanti aspetti. Sicuramente la via di trasmissione più probabile è quella respiratoria attraverso le gocce di saliva i famosi droplets che vengono emessi dai soggetti infetti nell'aria parlando starnutendo tussendo e questo può avvenire a distanze ravvicinate. Sappiamo quindi il discorso del distanziamento sociale e dell'importanza di ridurre il più possibile la vicinanza tra i soggetti e l'importanza di utilizzare le mascherine per limitare questa via di trasmissione. Un'altra via di trasmissione possibile ma che viene ritenuta essere meno frequentemente responsabile dei contagi è quella per tramite del contatto quindi toccando con le mani superfici contaminate e poi toccando le mucose, le congiuntive con le mani non lavate. Esistono poi tante altre vie che sono state sospettate possibili vie di trasmissione del virus ma che ad oggi mancano ancora di dimostrazioni certe. Per esempio il contatto con i liquidi biologici, il contatto con le feci oppure anche il contagio per via aerea però per permanenza del virus in stanze poco aerate e quindi permettendo eventualmente la trasmissione anche a distanze maggiori. Ripeto però su questi aspetti mancano ancora diverse conferme. Per un principio di precauzione noi come operatori e soprattutto in sala autoptica dobbiamo tener conto di tutti questi possibili aspetti. Per quanto riguarda la permanenza del virus sulle superfici sicuramente anche voi avrete letto diversi articoli soprattutto nei primi momenti quando è iniziata la pandemia c'erano numerosi studi scientifici che provavano a tamponare qualsiasi oggetto, qualsiasi superficie, molti di essi riscontravano la presenza di virus. Alcuni soprattutto nei primi tempi davano adito ad articoli un po' da titoli ripresi dalla cronaca in maniera sensazionalistica dicendo che il virus poteva sopravvivere sulle superfici anche per diversi giorni per esempio sulle banconote ma anche sulle mascherine che venivano utilizzate. Ricordiamo però che tanti di questi esperimenti sono stati fatti in laboratorio con condizioni che difficilmente ricreano esattamente quelle che sono le condizioni in cui possiamo venire messi di fronte tutti i giorni. Ovviamente la maggior parte di questi esperimenti ha notato che l'esposizione alla luce solare o a temperature elevate riduce la permanenza del virus. Va ricordato però che la maggior parte di questi esperimenti andavano a identificare il materiale genetico, l'RNA del virus. Questo non è un'immediata conferma del fatto che quelle particelle virali o meglio quei residui di particelle virali possono essere infettivi. Una revisione più recente che ha preso in conto più di 90 di questi articoli ha dimostrato che in realtà la vitalità di molte di queste particelle virali non è dimostrata da nessun articolo e quindi ha ridimensionato notevolmente quello che può essere il rischio. Tornando invece a un argomento che ci interessa quindi la possibile presenza del virus non solo all'interno delle secrezioni respiratorie ma anche di altri fluidi o liquidi biologici con cui possiamo venire a contatto anche durante un'autopsia. Anche qui ci sono vari articoli. Per esempio alcuni hanno trovato la presenza di virus all'interno del sangue. Si sa però che è una via di trasmissione difficilmente possibile. Viene richitenuta comunque plausibile ma anche qua mancano dimostrazioni. La stessa cosa per quanto riguarda la presenza del virus all'interno di urine, lacrime, vomito, contenuto gastrico. Ci sono alcuni studi che dimostrano la presenza del virus ma nessuno ha dimostrato con sicurezza la possibilità che queste particelle siano in grado di infettare. L'avrete sentito in alcuni articoli più recenti. Hanno approfondito la permanenza del virus all'interno del materiale fecale. Si è visto che soprattutto nei soggetti che hanno infezione particolarmente grave il virus tende a rimanere per notevole tempo e quindi magari il tampone può risultare positivo, un tampone anale può risultare positivo anche quando il tampone delle vie aeree superiori si è già negativizzato. E quindi questo è un suggerimento a fare particolarmente attenzione. Anche qui però nonostante ci siano stati alcuni articoli soprattutto in Cina per esempio in palazzi particolarmente affollati in cui si sospettava che il contagio possa essere avvenuto anche per trasmissione attraverso la rete fognaria. Ci sono dei sospetti ma nessuna dimostrazione. Passerei adesso a fare un breve riepilogo di quelli che sono i riferimenti normativi da cui possiamo desumere quelle che sono le regole da adottare in sala autottica. Durante tutto il 2020-2021 sono usciti diverse circolari. Quelle che interessano a noi sono quelle che in particolar modo danno indicazioni connesse all'epidemia nel settore funebre, cimiteriale e di cremazione. Il primo è quello del primo aprile 2020 in cui veniva definito in particolare che per i defunti affetti quindi con sicurezza da covid vanno adottate tutte le cautele specifiche le stesse che si dovevano adottare per i soggetti defunti in seguito di un'infezione da microorganismi di gruppo 3. La stessa cosa andava fatta anche in tutti quei casi in cui non si potesse escludere. Quindi o ho il sospetto o sono sicuro che il soggetto avesse il covid o non posso escludere che non lo avesse. In tutti questi casi devo adottare la massima precauzione e le massime cautele. Nella stessa circolare c'era un passaggio molto importante. Questo che vi ho riportato con il decesso c'è sono le funzioni vitali e si riduce per forza il pericolo di contagio. Quindi il paziente deceduto di per sé non respirando, non essendo in movimento, quindi non essendo possibile la liberazione di particelle nell'area, non è fonte di dispersione del virus nell'ambiente. E questo è un elemento che dobbiamo ricordare nelle fasi in cui abbiamo a che fare con i cadaveri. Un'altra cosa importante che era emersa da questa circolare, lo sappiamo bene, è questa, in cui veniva detto che per tutto il periodo della fase emergenziale non si dovrebbe procedere all'esecuzione di autopsia o riscontri nei casi conclamati di covid. E sappiamo bene che questo punto ha di fatto limitato moltissimo, se non completamente bloccato, la nostra possibilità di effettuare autopsie. Perché le autopsie potevano essere effettuate solo nelle sale settore che garantiscono le condizioni di massima sicurezza. Vedremo poi più nel dettaglio i requisiti di queste sale. Nella stessa circolare c'erano poi indicazioni precise sui dispositivi di protezione da utilizzare e sulle varie procedure. Le vediamo poi nel dettaglio. Per quanto riguarda la pericolosità del cadavere e la pericolosità a cui ci troviamo di fronte quando eseguiamo un'autopsia, l'altra volta il Proavventura aveva giustamente richiamato un articolo uscito ad aprile a maggio dell'anno scorso, che aveva fatto molto scalpore perché aveva avuto notevole risonanza mediatica. E c'è la possibilità che un medico di un obitorio si fosse infettato a seguito del contatto col cadavere, a seguito delle procedure eseguite sul cadavere. In realtà, questo articolo ed è giusto ricordarlo, è stato poco dopo rettificato dagli stessi autori e gli stessi si sono, tra virgolette, scusati, dicendo che probabilmente non erano stati molto chiari nel riportare quanto detto, specificando che il soggetto non era morto come invece era stato fatto passare dalla stampa e specificando che non vi erano evidenze che il contagio fosse avvenuto in sala autottica. L'articolo di per sé aveva solo voluto porre l'attenzione che andava messa nelle precauzioni da tenere in obitorio. Quindi è giusto, secondo me, anche ridimensionare un attimo questo aspetto, fermo restando che serve sempre la massima precauzione. Le altre circolari hanno cambiato solo alcuni aspetti della prima, per esempio nell'8 aprile in realtà era stato cambiato semplicemente il divieto del trasporto a cassa aperta. Nel 2 maggio era stato ricosentito l'esecuzione dei funerali. Il 28 maggio era stato eliminato il seguente questo paragrafo che creava un po' di ingerenza verso quella che era l'autonomia dell'autorità giudiziaria e dell'autorità sanitaria e che per chi fa il nostro lavoro era sostanzialmente poco utile. È ovvio che l'autorità giudiziaria decide di volta in volta, è ovvio che la direzione sanitaria in riscontro diagnostico lo chiede se vi è un'effettiva necessità. Per quanto riguarda l'ultima circolare, quella più recente, risale all'11 gennaio, in questa circolare, se notate, è stato rimosso il forte consiglio di non eseguire le autopsie, pur rimanendo valide tutte le altre indicazioni di sicurezza. A parte queste circolari specifiche sul Covid, però, è importante ricordare anche alcune delle normative che valevano prima, lasciando stare, lasciando la parte, quello che è il regolamento di polizia mortuaria che dava alcune definizioni e ovviamente anche lui diceva di prestare attenzione nei casi di decesso per malattia infettiva, un documento importante era quello derivato dalla conferenza Stato-Regione nel 2017, in cui venivano date delle linee guida molto precise per la prevenzione del rischio biologico, in ottemperanza quelle che erano le direttive del decreto legislativo del 2008. Già in queste linee guida si parlava espressamente di tutti i dispositivi di protezione che bisogna indossare nelle varie fasi di manipolazione del cadavere. Non so voi, non so se i vostri obitori sono molto più virtuosi di quelli che ho avuto occasione di vedere io, però tanti di questi passaggi che erano già all'epoca molto stringenti, io non li ho mai visti applicare in questo modo prima dell'epoca Covid. Però già in questi passaggi si parlava della necessità delle mascherine FP2, quando ci può essere il rischio di malattie, di infezione con trasmissione aerea, già si parlava di sale di livello di sicurezza 3. Quindi diciamo che le normative dell'anno scorso sono state una diretta conseguenza di questo documento fondamentalmente. Per quanto riguarda poi il discorso delle autopsie, in cui sono specificate ovviamente anche tutte le procedure di sicurezza, varie società scientifiche hanno espresso i loro documenti. il CDC, l'Istituto Superiore di Sanità, il gruppo del GIF ha pubblicato un articolo con le buone pratiche che devono essere seguite per l'esecuzione di autopsie, in cui è riportato nel dettaglio alcuni elementi che adesso oggi vi ricorderò. Veniamo ora alla parte più fondamentale di questa presentazione e vediamo nel dettaglio quelli che sono i requisiti della sala autoptica. La sala autoptica per poter eseguire autopsie in caso di covid conclamato o sospetto devono essere sale certificate con livello sicurezza BSL 3 o con un sistema di areazione che garantisca questi parametri. C'è uno scambio minimo di 6 fino a un massimo di 12 ricambi di aria per ora. Deve esservi una pressione negativa rispetto alle aree adiecenti e l'area deve fuoriuscire all'esterno in zone lontane dal passaggio del personale oppure se ricircola deve per forza passare attraverso dei filtri appositi. Ovviamente i requisiti della sala BSL 3 non sono solo legati alla reazione e ai filtri ma dovrebbero prevedere tutta una definizione di quelli che sono i percorsi. Quindi devono essere delimitati le zone pulite, le zone gialle di filtro e le zone contaminate con uno specifico percorso che deve seguire l'operatore e uno specifico percorso che deve seguire la salma. Tutti questi aspetti devono essere ben presenti, ben studiati, ben conosciuti e quindi devono esistere dei protocolli che l'operatore prima di fare l'autopsia deve conoscere nel dettaglio. Ovviamente deve essere adeguata la pulizia della sala sia prima di procedere sia al termine e quindi bisogna utilizzare dei prodotti idonei, il primo tra tutti, quello più frequente, l'ipoclorito di sodio. Ci sono poi alcuni aspetti che vorrei sottolineare anche avendo avuto occasione di fare autopsia in questi contesti. Dovendo lavorare in una sala a pressione negativa con una certa ventilazione è fondamentale che questa pressione negativa venga mantenuta, quindi bisogna porsi il problema che la porta deve rimanere chiusa, soprattutto nelle fasi più pericolose in cui può essere generato aerosol o comunque in cui si inizia la sezione del cadavere, in quelle fasi non dovrebbe più essere consentito il passaggio di operatori. Per lo stesso motivo all'interno della sala il numero di operatori presenti dovrebbe essere limitato. Questo lo dico come racconto, ma anche come magari una discussione per parlare di quelle che sono state le vostre esperienze. vorrei sottolineare che tanti protocolli non tengono conto di alcuni aspetti che ci troviamo a affrontare tutti i giorni, soprattutto nell'attività autoptica. Pensate semplicemente al discorso del riconoscimento della salma prima di un'autopsia giudiziaria. Immaginate la difficoltà in questo contesto. Io mi sono trovato con carabinieri che a tutti i costi dovevano eseguire il riconoscimento, ma ovviamente non si può far entrare il parente all'interno di questa sala. L'abbiamo gestita tramite fotografie, ma anche la semplice foto, recuperare la foto dal sacco chiuso della sala BSL3, non è per niente facile. Un altro aspetto che non troviamo mai nei protocolli, ma che affrontiamo tutti i giorni, è la presenza di consulenti di parte. È ovvio che anche tutti i consulenti devono avere i dispositivi di protezione e anche loro devono conoscere tutte le procedure. E quindi anche il semplice fatto di non poter uscire dalla sala affinché non è stato sigillato il sacco, per esempio. È stato ricordato l'altra volta, l'ho riportato brevemente, sul sito del GIF troverete un censimento di quelle che sono le sale autotiche sul suolo italiano e vi chiediamo, eventualmente, se conoscete qualche sala che non è stata, che non è presente sul sito, di comunicarcelo, di comunicarlo anche al Prof. Ais, così da aggiornare, e ci dà un'idea di quella che è la situazione. Situazione che sicuramente è migliorata notevolmente rispetto ai primi mesi della pandemia. Passando ora all'altro aspetto, parliamo dei dispositivi di protezione individuale. Li avrete visti, li avete sentiti. Ovviamente, per poter fare un'autopsia, servirà sempre una tuta integrale, una mascherina con filtrante adeguato, e in questo caso deve essere almeno una FP2, un dispositivo che ci protegga da quelli che sono gli schizzi, quindi una maschera facciale, guanti, e in questo caso si tratta di tre paia di guanti, interno ed esterno di lattice, con interposto un paio di guanti antitaglio. dovremo avere dei calzari adeguati, la tuta deve avere il cappuccio, e all'interno della sala dobbiamo poter avere tutta la strumentazione necessaria in modo da evitare di entrare e di uscire. Vi ho riportato brevemente un video tratto dal Ministero, scusate, molto velocizzato, che riporta quella che è la procedura di vestizione, perché ovviamente è molto importante come si esegue, e quindi la pulizia delle mani, il poter indossare correttamente la tuta idrorepellente, lascio scuorere, vedete anche la cuffia, in questo video non la indossa, ma ovviamente in questa fase spesso ci troviamo a essere in più persone, quindi perlomeno una mascherina chirurgica prima di indossare la mascherina FP2 è necessaria. I calzari, o laddove è necessario anche stivali di gomma per evitare di bagnarsi o di bagnare gli indumenti sottostanti, lavarsi le mani frequentemente ai vari passaggi, indossare correttamente i vari guanti, facendo molta attenzione che il paio sottostante di guanti sia al di sotto dei polsini. Quando lavoriamo, quando facciamo autopsie, è una delle zone più a rischio che tende a scoprirsi, quindi in questa fase si possono usare anche elastici o eventualmente dei sistemi per contenere. Quando viene indossata la maschera facciale, è importante eseguire il test di tenuta, così da assicurarsi che non vi siano perdite d'aria, e così com'è importante chiudere e sigillare completamente tutta la tuta. Ovviamente questa, anche la visiera. In questo video non sono stati indossati i guanti antitaglio, così come non è stato indossato l'eventuale sovracamice di grembiule che può essere utile in autopsia. Così come la vestizione, e forse anche più importante, la procedura di svestizione. Dobbiamo sempre aver ben presente quali sono le aree contaminate, e dobbiamo sempre aver ben presente di non contaminare il pulito con lo sporco. Quindi i guanti si tolgono sempre dall'interno verso l'esterno, avendo cura di lavare più volte i guanti e di cambiare il paio esterno. Dobbiamo essere dotati di contenitori dove poter disinfettare tutti quelli che sono i dispositivi riutilizzabili. Bisogna prestare particolare attenzione alla tuta, togliendola dalle parti posteriori, che in teoria sono quelle meno contaminate, e toccando solo la parte interna arrotolandola. Sedendoci può essere più facile tutta questa procedura. Così come questa procedura è consigliabile farla in due operatori, in modo da avere sempre qualcuno che controlli che tutto venga eseguito in maniera corretta e che eventualmente i dispositivi di protezione siano integri, così come tutta la rimozione della maschera facciale e l'igiene frequente alle mani. Una cosa importante, non dobbiamo pensare solo a noi quando dobbiamo uscire dalla sala autoptica, ma anche al materiale. la semplice macchina fotografica, il blocco degli appunti, le penne, il telefono, sono tutti oggetti che possono essere contaminati, quindi dobbiamo fare particolare attenzione. Un elenco di tutti i dispositivi di protezione idoni è presente sul sito dell'Ineail, in cui ci sono tutti quelli certificati. Quindi, richiamando un attimo la circolare, l'ultima uscita, volevo farvi notare che c'è forse una piccola disattenzione, perché nella parte in cui parla dei patologi e dei tecnici che eseguono autopsie, si parla di utilizzare una protezione respiratoria solo nelle fasi, solo se eventualmente vengono eseguite fasi con produzione di aerosol. Questa cosa però è in contrasto con quanto riportato nei passi precedenti, dove si dice che chiunque manipola un cadavere, quindi anche i semplici tecnici dell'obitorio che si occupano di insaccare il cadavere, devono avere sempre perlomeno un FP2. Tornando appunto al cadavere, solo alcuni brevissimi aspetti per porre attenzione anche alle altre fasi di manipolazione del cadavere. E vengono espresse bene nella circolare, dove si dice sempre che bisogna fare la massima attenzione quando si mobilizza il cadavere, onde evitare che lo spostamento possa generare aerosol o ci possa essere contatto con fluidi e materiali biologici infetti. Quindi anche in queste fasi è sempre fondamentale l'utilizzo degli adeguati dispositivi di protezione, così come la curata pulizia e la reazione dei locali. I sacchi devono essere impermeabili e sempre disinfettati anche esternamente. Nella nostra esperienza abbiamo spesso utilizzato, abbiamo eseguito l'autopsia all'interno del sacco per evitare la fuoriuscita di liquidi e questo sacco chiuso, sigillato e disinfettato veniva messo all'interno di un secondo sacco pulito per ridurre ancora di più il possibile rischio. L'ultimissimo aspetto su cui vorrei richiamare la vostra attenzione riguarda anche quelli che sono i campioni. Durante l'autopsia, poi ne parlerà sicuramente nel dettaglio il profais, prenderemo dei campioni, non riesco a partire l'animazione, ma non c'è, ve lo racconto, ovviamente non c'è un grosso problema per quanto riguarda i campioni in formalina, nel senso che in poco tempo il virus viene inattivato, più attenzione bisogna fare per quanto riguarda i campioni di sangue, urina necessari per le nostre attività. Su questo ci sono delle indicazioni specifiche da parte del CDC, però devo ammettere che non ho trovato indicazioni da parte delle società italiane. La cosa su cui fare attenzione è che questi campioni dovrebbero essere gestiti all'interno di cappe biologiche e bisognerebbe fare attenzione anche durante tutte le fasi in cui si può generare aerosol. Semplicemente la siringa, semplicemente il pipettare il liquido può essere visto come una procedura che genera aerosol. Ancora di più la centrifugazione. Quindi massima attenzione anche in questi casi. Io avrei concluso, vi ringrazio per l'attenzione, come dicevamo con il prof, ovviamente ringrazio anche il prof Osculati, con cui mi sono divertito, diciamo tra virgolette, a eseguire le prime autopsie COVID con tantissime difficoltà. Situazione che adesso ovviamente è migliorata, anche grazie all'impegno di tutti e anche grazie all'informazione che si fa attraverso questi strumenti. Quindi vi ringrazio.